buonasera a tutti amici e amiche carissime vedo già un pochino di domande che sono rapidamente partite quindi è meglio passare subito le risposte così vediamo se almeno qualche volta riusciamo a non lasciarne nessuna in evasa che è un po difficile allora buonasera padre potrebbe illustrarci il ruolo del diacono chiede matteo chimenti che percorso formativo deve compiere quali compiti specifici allora il diacono è il primo grado dell'ordine sacro non avente natura sacerdotale ma ministeriale si dice tecnicamente che i diaconi sono ordinati per il servizio non per il sacerdozio e rappresenta nella comunità cristiana cristo servo e ha dei compiti dovrebbe avere dei compiti eminentemente legati e fondamentalmente all'esercizio della carità come erano i primi sette diaconi e al ministero della predicazione santo stefano sappiamo che diacono proto martire predicava il vangelo e i primi sette diaconi furono istituiti per il servizio delle mense questa cosa si vede dei ruoli che ha il ruolo il diacono anche nella liturgia legge il vangelo proclama il vangelo e alza il calice a fianco al sacerdote che sono le due cose più importanti che fa durante la liturgia oltre che preparare l'altare per il sacrificio quindi preparare tutto quanto per per l'offertorio queste sono le funzioni che ha e sono ammessi al diaconato nella chiesa latina con le riforme diciamo degli ultimi anni anche gli uomini che abbiano avuto che abbiano contratto il sacramento del matrimonio si chiamano diaconi permanenti i percorsi formativi e sono stabiliti dalle diocesi è il vescovo che in ogni diocesi stabilisce un certo iter formativo di studi e non solo di studi anche di varie insomma altre possibili cose che vengono richieste un diacono durante la formazione io non sono molto esperto perché non ho mai ricoperto un ufficio di come dire di assistente spirituale dei diaconi insomma però molti anni fa il vescovo mi chiamò a fare dei corsi di certamente semplificati insomma di teologia che erano anche per i diaconi a cui è richiesto anche certamente un minimo non come un sacerdote però un certo grado di preparazione filosofica teologica per potersi assumere il ministero della predicazione questo per quanto riguarda questa prima domanda la seconda rosario scapolatiello ave maria don leonato ci sono casi ci sono casi in cui è possibile avere nella propria abitazione di eucaristia quindi l'adorazione no subito ovviamente con tutte le attenzioni del caso quindi la risposta è tassativamente no l'eucaristia non esce per nessun motivo dal luogo sacro e dalla chiesa a meno che un privato non abbia come dire l'autorizzazione scritta e firmata dal vescovo anzitutto di poter avere dentro casa una cappella ed eventualmente l'esercizio della santa messa in quella cappella le condizioni stabilite sempre dal vescovo ed eventualmente la custodia eucaristica ma questa è una cosa che richiede l'esplicitissimo intervento dell'autorità ecclesiastica l'eucaristia non può essere portata fuori dal luogo sacro se non dal sacerdote oggi eventualmente da qualche ministro straordinario ma esclusivamente deve per essere portata come ammalati anziani quindi per essere data come comunione sacramentale non per portarsela a spasso in giro evidentemente poi quando uno si porta in giro insomma l'eucaristia anche a fini sacramentali e leciti come quelli che sto dicendo e dovrà avere evidentemente un estremo riguardo cioè non è assolutamente il caso spero che nessuno lo faccia insomma veramente a nessuno che con la teca dell'eucaristia dentro lo taschino al bar a prendersi il caffè insomma voglio ben sperare insomma che nessuno faccia robe di questo genere perché sarebbero insomma cose molto brutte insomma nei confronti del dell'eucaristia però l'eucaristia è una cosa ecco molto grossa e molto seria per cui a spasso e dentro casa non si porta a meno che ripeto un laico non abbia chiesto fatto richiesta e ottenuto dall'ordinario la possibilità di avere una cappella domestica ed eventualmente all'interno anche custodire gesù l'eucaristia ma fuori di questo caso non è assolutamente lecito una cosa di questo genere Bachita chiede il signor affide a ciascuno un angelo custode o solo a certe anime chiese insegna che tutti tutti nessuno escluso tutti gli esseri umani di qualunque religione anche quindi i musulmani hanno un angelo custode quindi hanno un angelo incaricato di custodirle custodire il cammino e la persona e di metterla in condizione insomma evidentemente come può di raggiungere l'eterna salvezza sappiamo che la salvezza di per sé è universale aperta e offerta da tutti evidentemente con delle distinzioni perché a seconda insomma del tipo di rapporto più o meno stretto che si abbia con Cristo e con la chiesa è così i mezzi di salvezza sono più o meno numerosi e quindi anche le cose che sono richieste insomma a una persona per poter raggiungere la salvezza sono più o meno intense come dice nell'evangelo a chi molto fu dato molto sarà chiesto evidentemente a chi poco fu dato poco sarà chiesto ma la chiesa e la sua tradizione ha sempre creduto che un angelo custode qualche santo dice che eventualmente se ne può avere più di uno quindi due o anche di più ma uno ce l'hanno tutti galipolizza chiede perché per i defunti è meglio far celebrare messe gregoriane può spiegare la particolarità per i defunti è bene far celebrare comunque le sante messe le messe gregoriane sono una pratica particolare che risale appunto a Gregorio Magno Papa a San Gregorio Magno Papa che sono 30 messe consecutive sono tante quindi non è una missa e per il fatto di essere tutte quante consecutive hanno il beneficio dell'indulgenza plenaria concessa appunto da Papa Gregorio quindi se si trova un sacerdote privo di intenzione di sante messe che quindi può assicurare per 30 giorni consecutivi la celebrazione di una messa per questa intenzione è una delle opere a mio avviso più grandi di carità che si possa fare ad un fedele defunto quindi è sommamente lodevole e anche sommamente produce evidentemente degli enormi benefici senza nessun dubbio al defunto qualora ovviamente insomma ne abbia bisogno perché se sta in paradiso il bisogno non ne ha se Dio non voglia stesse altrove bisogno ne ha ancora meno ecco però per le anime che sono in purgatorio non esiste nulla di più grande insomma che un ciclo di messe gregoriane Andrea Battimiello 99 chiede padre buonasera le volevo chiedere come noi giovani studenti universitari possiamo coniugare lo studio alla divina volontà PS una benedizione per i miei studi nella facoltà di giurisprudenza domanda non molto chiara Andrea Battimiello quindi la divina volontà si trova ovunque si trova quindi per uno studente universitario certamente è divina volontà anche che studi e che acquisisca tutte quante le condizioni con la massima perfezione possibile e necessarie per svolgere poi bene la propria professione quindi lo studio fino a quando permane è il lavoro di una persona quindi va fatto con il massimo zero con il massimo impegno possibile insomma la divina volontà non è qualche cosa che ci come dire fa fare una vita strana particolare o diversa da quella degli altri insomma ci può vivere con la massima perfezione possibile la vita che stiamo vivendo e ci apre anche degli orizzonti ancora più belli insomma ancora più ampi dilatati nel senso di porti aperte all'accoglienza dell'amore di Dio e della sua bontà attraverso varie fonti quindi un rapporto di amore più intenso e più profondo con Gesù e quindi evidentemente anche di riflesso nei confronti del prossimo ma non è compatibile con tutti gli stati di vita con tutte le professioni con tutti gli studi anche con l'analfabetismo dato che quel collega come dire che è stata scelta dal signore per parlare per parlarle e quindi per poter poi lei riferire a noi un po' più dettagliatamente del mistero del suo volere era non era una studentessa di giurisprudenza ecco era prima elementare insomma quindi che significa che se l'ha capito lei almeno qualcosa possono capirlo tutti no quindi non allora galipolizza può spiegare cosa può stare sull'altare in particolare la croce deve essere sempre presente sopra o accanto secondo le norme liturgiche attuali la croce può essere collocata sopra o accanto all'altare l'importante è che ci sia d'accordo a mio modestissimo avviso su questo insomma io a suo tempo apprezzai molto quello che fece benedetto sedicesimo certamente lo faccio anche io insomma io preferisco tenerla sull'altare perché così è vista da tutti sia dai fedeli che dal sacerdote e anche cioè perché se io sto di lato la vedo nei fedeli ma insomma non posso girarmi quindi ecco invece quando alzo gli occhi la prima cosa che mi piace insomma incontrare dal momento che sto celebrando la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce è Cristo crocifisso insomma no perché insomma è vero che c'erano bisogni fedeli però ce ne abbiamo bisogno anche noi poveri preti insomma quindi conto che l'altare con un tempo era rivolto verso il tabernacolo con sopra il crocifisso quindi tutti lo guardavano e adesso se lo metti di fianco all'altare lo vedono soltanto i fedeli e quindi certamente buon per loro però quindi dal momento che può stare nell'una o nell'altra parte è ad libitum di chi celebra vedere dove 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 collocare il il crocifisso a mio avviso è preferibile penso che si abbia la libertà di poter professare questa cosa perché quando le norme dicono o o vuol dire che la collocazione poi di fatto è lasciata alla alla libera scelta quindi non ci sono leggi coercitive la stanzione vorremmo sapere perché alcuni sacerdoti dopo la consacrazione spezzano l'eucaristia mentre altri la mantengono intera l'eucaristia l'eucaristia si spezza all'agnus dei non si spezza prima secondo le norme liturgiche quindi solo che bisogna vedere che cosa intende virgina stanzione con consacrazione perché non sempre mi perdoni ovviamente eh non vorrei offendere nessuno ecco però i fedeli laici usano con come dire con rigore tecnico alcuni termini ben specifici no quindi la consacrazione è quando il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione e attraverso quelle parole trasforma il pane nel corpo di cristo e il vino nel sangue di cristo terminata la preghiera eucaristica c'è il padre nostro lo scambio di pace e poi l'agnus dei all'agnus dei è previsto il gesto della fraxio panis e l'immistione cioè il sacerdote stacca un frammento del corpo di cristo e recitando una preghiera specifica lo immette nel calice con il sangue di cristo queste sono le norme liturgiche chi si comportasse diversamente da questa cosa qui commette un abuso liturgico quindi chi fa e spezza l'ostia in un momento diverso da questo da un punto di vista oggettivo quindi non soggettivo commette un abuso perché la liturgia non è cosa che è al nostro come dire uso e consumo mi piace di più e secondo me c'ha più significato fallo in un altro momento allora lo faccio questo non si può assolutamente fare questo è arbitrio insomma liturgico che è cosa contro cui documenti del del magistero documenti della santa sede e anche esortazione di vari papi e vescovi perché insomma l'ho sentita qualcuno anch'io raccomandano sempre di stare attenti e di non non di non fare nessun tipo di abuso liturgico perché la liturgia è un atto della chiesa non è un atto del sacerdote il sacerdote semplicemente presta la propria persona con la liturgia è qualche cosa che è più grande di lui e l'osservanza delle norme liturgiche è requisito essenziale perché la liturgia sia celebrata bene e come dio comanda la zia catiuscia 80 crede nel demonio mi sembra una domanda abbastanza strana insomma da da formulare a un ministro insomma della di cristo e della chiesa perché il demonio è una delle verità di fede quindi fondamentali i demoni voglio dire per parlare insomma perché l'insegnamento della chiesa sugli angeli dei caduti è chiaro il principe dei demoni sappiamo come si chiama e anche come si chiamava e quello che fanno lo sappiamo sia in ciò che è di ordinario sia in ciò che è di straordinario insomma cioè un ministro non può non credere nell'esistenza del demonio perché altrimenti esce fuori della comunione con la chiesa e dell'insegnamento ufficiale e auterevole e autentico della chiesa insomma Franci sa ma cosa significa nella divina volontà quando Gesù dice che i temperamenti sensibili devono fuggire le persone che eccitano la loro sensibilità sinceramente insomma non comprendo molto bene questa questa domanda non mi risulta che Gesù abbia detto che i temperamenti sensibili devono fuggire le persone che eccitano la loro sensibilità questo può essere qualche consiglio dato da qualche maestro di spirito non da Gesù in persona almeno a me non risulta e poi questa cosa qui non è una cosa da cercare il significato nella divina volontà è una cosa da vedere il significato in quello che esprime insomma però questa credo che sia una cosa che vada molto circostanziata adesso in questo momento io non ci ho presenti tutti quanti i manuali di ascenza e se in qualche manuale di ascenza o in qualche libro spirituale viene dato questo consiglio insomma in linea di massima come dire bisogna evitare di trovarsi a contatto con situazioni e cose che magari fomentano i nostri difetti certo che però se uno il vero cammino la vera ascetica è imparare a dominare i propri difetti quindi che non si può sempre come dire stare non si può uno non può chiudersi e allontanare certe persone perché deve deve vincere un difetto questa è una cosa che si può tollerare al limite ma per un certo tempo insomma non a tempo indeterminato perché uno che deve insomma superare un difetto può rinchiudersi dentro una come dire dentro una una campana di vetro o evitare volontariamente sistematicamente un certo tipo di persone però ripeto insomma che Gesù abbia detto una cosa di questo genere a me personalmente non risulta così come non mi risulta nella mia poca conoscenza che ancora ho che questa cosa vada 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 abbia bisogno di essere letta nella divina volontà evidentemente insomma non è affatto escluso che ci sia qualcuno che ne sappia più di me e forse chi fa questa domanda conosce questo qualcuno insomma ma io più di questo mi dispiace ma non posso dire la nepolizza dice se a me se è presente il sacerdote e il diacono può solo il diacono andare alla comunione mentre il sacerdote resta seduto ordinariamente questo non si può fare perché almeno a quanto a quanto mi risulta da quello che è scritto nei nei documenti della santa sede quindi il sacerdote e il diacono è il ministro ordinario dell'eucaristia e quindi se dovesse presiedere una liturgia della parola dove c'è solo lui certamente può dare l'eucaristia che il sacerdote celebrante stia seduto e che faccia dare la comunione solo dal diacono qualche volta qualcuno dice anche dal ministro straordinario è una cosa certamente teoricamente possibile ma ci deve essere una giusta causa non è una cosa fatta da così tanto per farla se il sacerdote è infermo non riesce a stare per molto tempo in piedi insomma o ci sono qualche altra ripeto giusta causa e penso che si possa il sacerdote si può assumere la responsabilità di fare una cosa di questo genere certamente farla così tanto per farla a me non risulta che sia una cosa lecita per quei documenti che conosco quindi affianca il sacerdote certamente tra l'altro essendo un diacono non c'è nemmeno quella valutazione che invece deve essere fatta per i ministri straordinari cioè delle condizioni di straordinarietà nella liturgia un ministro straordinario può aiutare il sacerdote solo se il sacerdote fa una valutazione che ci siano delle concrete e reali necessità derivate delle circostanze straordinarie questo è scritto molto chiaramente nei documenti proprio perché il ministro straordinario a differenza del diacono non è ministro ordinario dell'eucaristia e quindi non può essere adoperato mentre ci sono 30 persone e c'è il sacerdote del diacono diamo la comunione in due si può fare se ci sono 30 persone e c'è il sacerdote del ministro straordinario la comunione in due non si può fare per essere proprio molto molto concreti almeno ostante a quello che dicono i documenti anche qui i documenti delle norme liturgiche sono scritte non perché restino dentro un armadio perché insomma siano più i consigli e poi ognuno fa come gli pare ma dovrebbero essere dovrebbero essere osservati insomma beh poi abbiamo Janto Ernesto buonasera padre si dice che l'eucaristia devono distribuire solo i preti io sono ministro straordinario e questa cosa mi ha messo un po' in crisi lei cosa mi dice? grazie ho già risposto dico quello che dice la chiesa su questo il ministro straordinario ha una sua funzione di essere può essere istituito perché le norme della chiesa adesso lo prevedono ma sia chi lo utilizza quindi brutto termine insomma non mi piace insomma non so però come farmi esprimere insomma no? quindi che è il sacerdote celebrante sia la persona stessa deve esercitare questo ministero conformemente alla mens con cui la chiesa lo ha istituito quello che è successo specialmente in alcuni posti e qui mi si permette insomma di notarlo ma questo non sono solo a dirlo è che purtroppo dei ministri straordinari c'è qualche volta abbastanza spesso un abuso nel senso che diventano di fatto una sorta di diaconi non diaconi quindi se uno è ministro straordinario e non è diacono vuol dire che deve comportarsi da ministro straordinario e quindi anche qui poi nei casi concreti se la responsabilità maggiore sia del sacerdote che quindi li iper responsabilizza anche al di là delle loro come dire giuste manzioni o il ministro straordinario che è un po' intraprendente quindi chiede desidera o si propone o a volte si impone anche oltre il dovuto queste sono situazioni locali che evidentemente poi bisogna fare un discernimento caso per caso però la chiesa questo insegna questi non sono insegnamenti queste sono norme diciamo si chiamano tecnicamente di tipo disciplinare quindi sono leggi della chiesa non è un dogma di fede insomma che debba esistere un ministro straordinario insomma quindi è semplicemente una figura che attualmente la legge della chiesa prevede che però prevede con certi limiti tanto è vero che alcuni documenti io ricordo quando l'essere attenzione il sacramento ma a suo tempo entrano molto nel dettaglio e si capisce benissimo che hanno la la menza e la volontà neanche troppo poi come dire sottintesa perché alcune cose vengono dette molto molto chiaramente di mettere un argine al dilagare di certi abusi che purtroppo pare che non siano infrequenti insomma ecco Cipolletti Maria Antonietta scrive Don buonasera volevo sapere ora come ora qualche angelo potrebbe ribellarsi e passare dalla parte dell'avversario e poi gli spiriti seguaci di Satria sono ex angeli o no gli angeli è da tempo che hanno come dire si sono schierati da una parte o dall'altra un angelo non può cambiare parte dopo che ha fatto una scelta la scelta dell'angelo è unica e irreversibile e quindi sono già né nessun demone può tornare angelo né nessun angelo adesso può diventare demone perché gli angeli buoni sono confermati in grazia e gli angeli ribelli sono confermati per l'eternità nella loro intrinseca malizia è evidente che tutti quanti gli angeli dei gatuti sono ex angeli d'accordo quindi sono stati creati buoni da Dio ma si sono pervertiti e corrotti per la loro cattiva volontà esercito 12 stelle buonasera padre gli angeli sono stati creati tutti una tantum oppure un processo che continua un po' come viene per la creatura umana e le uranime ho già risposto gli angeli sono stati creati tutti insieme prima degli uomini e sono stati sottoposti ad una prova e poi alcuni sono rimasti fedeli a Dio e altri si sono ribellati io non mi imbarco in queste cose perché pur avendo dei titoli accademici non esercito però attualmente l'ho fatto diciamo in maniera molto molto ridotta nei primi anni del mio ministero nessuna attività accademica quindi non non sono in grado di fornire testi e cose di questo genere io ho avuto a suo tempo la fortuna di avere un grande professore di teologia fondamentale faccio tranquillamente il nome perché quando si tratta del bene i nomi si possono fare che è Monsignor Rino Fisichella attuale arcivesco e credo che stia non so se il presidente adesso non voglio non voglio dargli un titolo che non ha o diminuire un titolo che ha comunque è un collaboratore abbastanza stretto diciamo così anche della santa sede credo che stia nella nella congregazione che adesso si chiama per l'evangelizzazione dei popoli e non so se proprio il presidente o il prefetto adesso non so neanche bene ecco comunque Fisichella era veramente una mente lucida ti faceva amare la teologia fondamentale lui ha scritto un libro di teologia fondamentale che è quello su cui ho studiato e quello che ricordo bene certamente è un testo è un buon testo ma è anche un bel testo quindi è un testo diciamo universitario quindi non è un testo divulgativo che era la rivelazione evento e credibilità me lo ricordo ancora me lo ricordo ecco però oltre a questo non saprei dare molti altri titoli insomma perché ripeto non ho esercitato l'ambito accademico e poi peraltro la teologia fondamentale non è proprio la mia specializzazione io sono specializzato in teologia dogmatica non fondamentale Maria Grazia Maria Grazia 54 dice buonasera don seguendo le sue meditazioni sull'administra mi è molto colpito la frase di Gesù che dice chi fa gli atti moltiplica la mia vita no però ragazzi non allora il discorso sull'administra prego di approfondirlo ci sono una montagna di interventi che ho fatto di meditazioni di catechesi perché non vorrei che questa trasmissione ecco diventa un altro quindi qui spaziamo su domande un pochino più più ampi ci sono avrò fatto forse 500 meditazioni insomma sono di una volontà più cicli di catechesi domani sera su Instagram c'è un'altra diretta anche su Instagram con la catechesi della dire volontà non solo su Instagram ma anche su Instagram a proposito volevo cogliere una piccola una piccola esortazione agli amici di Instagram quando facciamo Don Leonardo risponde potete fare tutte le domande che volete ma delle volte sto facendo una catechesi tipo quella sulla Dina Volontò tipo quella sulla Madonna che vanno anche su Instagram e continuo a vedere d'accordo cioè io non posso quando sto facendo una catechesi che ha certamente un filo logico diciamo un inizio uno svolgimento una fine interrompere rispondere alle domande quindi quella non è la serie opportuna è comunque se voi steste ammessa il sacerdotore sta facendo l'omelia uno si alza e fa le domande specifiche non è possibile quindi anche quando si fanno gli incontri le catechesi insomma di formazione prima si finisce un discorso e poi si dà la possibilità eventualmente agli astanti di fare le domande c'è appunto questa trasmissione insomma che mi fu a suo tempo insomma sollecitata da più fonti proprio per dare la possibilità a chi vuole di fare domande di vario genere ecco però non ci polarizziamo troppo sulla tematica della divina volontà perché è una tematica come dire specifica insomma qui sarebbe bello diciamo avere come dire domande di più ampio respiro che possano anche diciamo coinvolgere tutti quelli che partecipano e che seguono a diretto che poi ascoltano le riferite Sara Cardone scrive possono essere utili le messe gregoriale per una persona che si è suicidata e che ha lasciato la volontà di non celebrare il funerale questo è cioè io non sono nessunissimo non sono nessuno per per giudicare certo una persona che ha volontariamente fatto questo quindi che ha rifiutato il funerale cioè quindi non bisogna vedere bene conoscendo questa persona insomma com'era come non era quindi sarà una persona proprio dichiaratamente avversaria nemica del cristianesimo e quindi se fosse una cosa di questo genere è chiaro che ci potrebbe essere qualche motivo di di dubitare no? perché certamente Dio fa cioè che il fatto che una persona si suicidi come ci insegna la Chiesa non ci autorizza a relegarla tra i dannati a parte che non siamo autorizzati a relegare nessuno tra i dannati no? perché anche in quel gesto ci possono essere delle circostanze soggettive di vario genere che possono diminuire la responsabilità e non quindi costituire automaticamente una condanna all'inferno però insomma se una persona muore in questo ci sono anche dei casi tutti quanti ricorderanno però sicuramente il caso Welby insomma se una persona fa una cosa che è proprio contro la fede oppure se una persona si fa cremare come molti cosiddetti laici perché non crede e chiede che sia celebrato il funerale laico cioè non è una cosa che sia molto sensata insomma fare perché comunque la libertà e la volontà della persona vanno rispettate vanno non è che la si può violare anche dopo che è morta perché dopo che è morta la volontà rimane quindi e se questo non le ha volute non le ha volute no quindi l'indatrecca caro Donaldo perché nella quaresima non si dice alleluia alleluia che vuol dire lo date Dio sì certamente vuol dire lo date l'alleluia vuol dire lo date Dio ma l'alleluia è un canto di gioia è un canto di esultanza e durante la quaresima la gioia e l'esultanza ci abbiano un pochino il passo ad una maggiore attenzione alla penitenza ecco Maria Grazia 54 ho già detto insomma di non limitare le piccole mancanze verso Gesù o i piccoli peccati veniali dipendenti dalla debolezza ci possono stare ma nella divina volontà il peccato volontario non ci va d'accordo come abbiamo ampiamente spiegato anche nella catechesi abbiamo approfondito nella meditazione di questa mattina che parlava proprio di questi temi possiamo divinizzare tutti gli atti quotidiani come ha fatto Gesù nei 30 anni di vita che si è nascosta sì la risposta è sì anche questa è una domanda specifica sullo stesso tema il gatto io scrive buonasera caro padre vuole sapere la sorta degli angeli gustori e delle anime che vanno in purgatorio o all'inferno che fine fanno l'angelo gustore del personale non sarà dato un altro dopo la morte allora il gatto io queste sono domande a cui un povero prete non è in grado di rispondere io non so che fine fanno gli angeli dopo cioè le anime che vanno in purgatorio o all'inferno no queste sono cose che allora mi pare di aver detto in altre circostanze no Dio ordinariamente nella rivelazione anche nelle cose molto essenziali che anche la chiesa insegna ci dice le cose che sono necessarie per la salvezza quelle ce le dice le cose che sono come dire curiosità secondarie diciamo così ordinariamente il signore non le dice d'accordo perché è un suo stile a differenza nostra come dire di parlare nei limiti del necessario o dell'utile quindi ma la soddisfazione diciamo così di una curiosità più o meno lecita diciamo lecita o anche illecita ordinariamente il signore non la fa ora sapere che fine fa un angelo gustato di un anime del purgatorio come dire si capisce insomma che non è cioè se io lo so non lo so questo non è che mi cambia la vita né mi cambia la prospettiva di vita insomma quindi il signore vuole che noi abbiamo ben chiaro tutto quello che ci può aiutare in questa vita nel suo servizio nella crescita nella santità nella carità verso il prossimo questo se più ne sappiamo meglio è ecco ma di queste cose che non sono diciamo così necessarie alla nostra vita cristiana ecco se il nostro signore se conosce qualcuno insomma che il nostro signore fa anche tante rivelazioni private ecco ce ne sono tante possiamo vedere se sono attendibili oppure no quindi qualche volta qualche cosa la dice se ritiene opportuno in qualche rivelazione privata io non conosco nulla insomma che sia attinente a queste cose insomma non saprei quindi come come rispondere virginia stanzione stasera ce l'abbiamo tutti con gli angeli secondo lei gli angeli dopo essere stati creati conobbero la divina volontà oppure ne viene la conoscenza dopo anche questa è una domanda virginia stanzione che io non ne ho la più palida idea la divina volontà e certamente è il luogo del paradiso sicuramente gli angeli furono messi dinanzi ad una scelta quindi se fare quello che Dio gli aveva chiesto di fare quindi si obbedirgli oppure no così come noi esseri umani ecco ma del resto insomma non 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 è dato un gran che sapere almeno io non saprei cosa dire Actarus Goldrake chiede qual è la migliore preghiera non per chiedere qualcosa ma per ringraziare Dio grazie le preghiere di ringraziamento sono e di lode sono tante la preghiera di ringraziamento come dire ufficiale pubblica della Chiesa è il Tedeum Tedeum Laudamus Dominion Confideum che è quella che si dice la liturgia è sempre maestra della nostra preghiera c'è la messa del 31 dicembre che è appunto la solenne messa di ringraziamento dove si canta o almeno si recita il Tedeum che è appunto l'inno ufficiale di ringraziamento ma ogni salmo di lode ogni cantico di lode oltre al Tedeum c'è il Magnificat c'è il Gloria che diciamo durante la Santa Messa ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa eccetera quindi ci sono varie forme di espressione e come dire anche attraverso una formulazione precisa fermo restando che il ringraziamento è anche cosa che possiamo esprimere al Signore in termini personali quindi utilizzando delle nostre modalità proprie per esprimere la nostra gratitudine e il nostro voler rendere grazie al Signore no? è il gatto io? dice il demore Lilith esiste oppure è un nome inventato di questa cosa io ho letto in giro nei vari testi che ho letto di vari esorcisti quindi sembra di sì ma che esista un demore che si chiama in questo nome anche qui il gatto non è cosa così importante per la nostra anche perché sempre gli esorcisti dicono che i demoni meno si nominano e meglio è che non è cosa buona nominarli quindi se i nomi non si conoscono è ancora meglio ecco perché ai diavoli meno importanza si dà e meglio è ecco e l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è sapere che esistono e che ci tentano al male e quindi guardarci bene dalla loro attività malefica questo sì ecco ma tutto il resto meno importanza gli si dà e meglio è ecco animo gr animo rg 70 buonasera don quale la migliore santo santo a cui rivolgersi per chiedere la conversione di una figlia la migliore è la madonna quindi il secondo è san giuseppe e poi ci stanno per chi c'è le devozioni particolari ci sta la santa degli impossibili noi siamo dei bravi italiani che è santa rita insomma quindi si può tranquillamente optare per una di queste soluzioni iole rossi 69 scrive buonasera donardo volevo chiederle se va bene se un sasultato per benedire l'acqua e il sale fa uscire fedele resta solo per la benedizione la benedizione non ha bisogno della presenza dei fedeli se il sasultato li ha fatti uscire avrà avuto qualche buona motivazione insomma quindi non è qualche cosa che influisce sul rituale della della benedizione rosario scapolatiello scrive ancora padre durante una messa vespertina e frasettimanale dopo aver ricevuto la santa comunione per forza maggiore sono dovuto uscire della magnifica della benedizione finale bisogna che me ne confessi niente domande personali rosario quindi prima perché non è bene mettere i propri affari come questo qui in pubblico non è una cosa non è una forma diciamo così di quella sacra liberenza che dobbiamo avere anche nei confronti di noi stessi anche perché la risposta a queste domande richiedono un dialogo un colloquio perché bisogna vedere perché una persona è uscita presto se c'era qualche grave motivazione cosa ha fatto durante il tragetto in cui è uscito perché a me anche capita qualche volta che devo andare al convegno di Ocesano d'accordo della Tiantanto per dirne una che ci sta alle 6 e ce l'ha messa alle 5 e generalmente mi fermo una mezz'oretta per il ringraziamento ma se devo andare a stare lì per le 6 non ce la posso fermare però certamente in macchina cerco di pregare un po' in quella circostanza con un piccolo sacrificio perché preferisco farlo con calma e stando in chiesa però se noi c'è una necessità devo andare via perché se c'è il convegno di Ocesano io al convegno di Ocesano ci devo andare d'accordo ecco quindi non posso rimanere ecco quindi se c'è una giusta causa straordinaria e a seconda di come è gestito il tempo dopo insomma può essere una cosa che ci sta oppure non ci sta ecco però la sede opportuna per parlare di questa cosa è la prossima confessione oppure farsi due chiacchie col proprio padre spirituale insomma quindi per per chiedere un consiglio circostanziando la situazione De Angelis Rossella dice buonasera padre vuole sapere se il culto dei sette arcangeli è approvato dalla chiesa grazie la risposta è no il culto dei sette arcangeli non è approvato dalla chiesa anzi è proibito dalla disciplina della chiesa mi sembra che fosse Papa Zosimo comunque è una cosa risalente all'ottavo secolo dovrebbe essere Papa Zosimo che proibì di dare culto pubblico nella chiesa a qualunque angelo che non fosse uno dei tre nominati dalle sacre scritture che sono appunto l'arcangelo San Michele Gabriele Raffaele che tra l'altro la chiesa celebra con una festa solele il 29 di settembre prima della riforma avevano ciascuno una festa propria perché il 29 di settembre era la festa solo di San Michele e gli altri due arcangeli venivano celebrati con una messa distinta e una giornata distinta in altri momenti dell'anno adesso non me li ricordo più ma le date ma era così adesso sono state accorpate il motivo diciamo contingente per questa proibizione che ha natura precauzionale prudenziale era che si andava diffondendo un disordinato culto degli angeli e purtroppo questi angeli bisogna stare molto attenti perché i diavoli sono angeli decaduti per cui cioè dietro come dire l'apparenza di un angelo può essere un diavolo ci può essere ecco siccome successero problemi di questo genere il Papa intervenne e disse tagliamo la testa al toro quindi per andare tranquilli diciamo che si dà culto pubblico e formale nella chiesa con tanto di preghiera ufficiale approvati solo ai tre arcangi gli altri non si possono sappiamo dalla sacra scrittura che esistono i sette angeli assistenti ne parla il libro del profeta Daniele quindi i sette angeli che stanno sempre al cospetto di Dio sono sette sappiamo anche che la tradizione della chiesa anche iconografica se uno va a Roma nella basilica dei santi angeli e martiri che sta a fianco ai termini di Dio Greziano troverà un'icona con la Madonna circondata dei sette arcangeli con il nome degli altri quattro arcangeli che sappiamo dalla tradizione vediamo se me li ricordo sono Uriele Barrachiele Ieudiele e Sealtiele ecco però ripeto questi altri quattro sappiamo dalla tradizione che questi sono i nomi però c'è questo problema diciamo così di questa disposizione di Papa Zosimo che proibisce di dare e di compiere gesti di culto o di preghiera ufficiale a persone diverse dai primi tre arcangeli nominati dalla Sacra Cultura però di essere stato chiaro Voluntas Tua dice non pregare per un'anima defunta senza sapere se si è salvata si deve persistere ogni tanto dei dubbi noi non possiamo sapere se un'anima è salva se è salvata o non è salvata quindi pregare per i defunti è sempre un'opera di misericordia spirituale cioè noi dobbiamo sempre pensare una cosa che salvata o non salvata cioè se l'anima è salva i benefici della nostra preghiera sono duplici perché primo c'è il merito di aver pregato perché pregare per i defunti è un'opera di misericordia spirituale che comunque il Signore ricompenserà a chi la fa quindi se l'anima ne ha anche bisogno doppio bene perché oltre che ad essere ricompensato per quest'opera di misericordia che ho fatto ne trarrà anche beneficio l'anima di un defunto però il nostro Signore su questo ha quindi a meno che non escono fenomeni come una tuzza evolo che per un dono per una grazia straordinaria il Signore gli fece gli indieda la possibilità di conoscere lo stato delle anime trapassate quindi se erano salve o no o se erano in vulgatorio in paradiso noi dobbiamo stare nel nostro comune alveo della fede sperare che le persone non avere la certezza a volte si sentono dire anche in occasione di celebrazioni non soltanto da qualche improprio ministro ma a volte anche da qualche baldanzoso fedele che è andato in paradiso e è volato in cielo un angelo del cielo io dico sempre beati loro insomma e soccolo di sicuri insomma la Chiesa ci mette qualche decennio prima di canonizzare una persona bisogna essere cauti noi speriamo nella salvezza di tutti e specialmente delle persone è lecito avere la speranza della salvezza non la certezza che stanno tutti in paradiso insomma siamo passati insomma da un clima insomma dove si temeva che quasi tutti andassero all'inferno ma la certezza che stanno tutti in paradiso ci deve essere evidentemente una soluzione mediana quindi la maggioranza delle anime possiamo e dobbiamo credere che non essendo evidentemente pronte perché per trovarsi davanti al Signore insomma anche una minima imperfezione deve essere purificata quindi se qualcuno è capace insomma di presentarsi davanti a Dio senza manca una macchia di imperfezione viva Dio io non sono felice per lui ma è molto raro che questa si determini quindi tra poco comincia il mese di novembre non è un caso che la Chiesa per un mese ci esorti come in questo mese siamo esortati a pregare il rosario un po' di più e a prenderci a cuore la tematica delle missioni nel mese di novembre è il mese dedicato ai defunti per sensibilizzarci anno dopo anno sulla grande importanza che hanno le opere di misericordia per i defunti i suffragi eccetera ecco quindi è sempre bene pregare per un defunto e noi non possiamo sapere fino a quando ne ha bisogno io propenderei sempre a meglio una preghiera in più tanto se non ha bisogno quell'anima la Madonna non c'è nessuna difficoltà a raccogliere quella preghiera e come dire dirottarla diciamo così un santo dirottamento verso qualche anima bisognosa per la quale non prega mai nessuno insomma ecco io penso che queste care anime abbiano bisogno della nostra preghiera quindi più si fa è meglio è Rosi Bitti dice cos'era Ottavaro dei defunti presumibilmente questo nome non lo conosco i primi otto giorni del mese di novembre si può chiamare in questo modo perché la chiesa concede indulgenza plenaria applicabile ad un defunto al giorno a chi visita un cimitero e recita anche solamente un eterno riposo questo è per i primi otto giorni di novembre presumibilmente con questo termine si fa riferimento a questa cosa presumo insomma Cipolletti Maria Antonietta scrive dono approfitto le chiedo ma se la chiesa dice di non credere al malocchio alle persone che hanno malefici perché ci sono preghiera per liberarsene ma chi se non ha mai detto di non credere al malocchio alle persone che hanno malefici intenzione a non scambiare la chiesa di queste cose non ne parla d'accordo cioè la chiesa la chiesa diciamo così nel suo magistero nella sua dottrina raramente entra nello specifico la chiesa parla degli angeli dei ribelli e parla dell'azione ordinaria e straordinaria dei demoni quindi ciò che attiene a malocchio o maleficio e cose di questo genere si entra nell'ambito dell'azione straordinaria del demone e l'azione straordinaria poi ne parlano gli addetti ai lavori che sono gli esorcisti che hanno riscontri che quindi per forza di cose vengono a conoscenza di come alcuni mali malefici di natura straordinaria vengono perpetrati contro le persone e quindi danno anche degli strumenti per difendersi sono una montagna adesso questo bisogna leggere i libri degli esperti insomma adesso dopo la morte di padre Amort a quanto ne so io in Italia e credo che sia lui anche il presidente della conferenza internazionale degli esorcistitori ebbe essere padre Francesco Bamonte dovrebbe perché negli anni passati insomma molti anni fa ho letto diverse cose per evidente conoscenza anche personale perché comunque essendo un predo in cura d'anima una conoscenza anche di queste cose avendo un contatto diretto con le persone per capire anche alcune situazioni bisogna averle adesso non sono più da un po' di tempo insomma credo che sia padre Francesco Bamonte padre Francesco Bamonte ha scritto un sacco di cose anche per approfondire queste tematiche basta andare in qualche libreria cattolica i libri di padre Amonte sono ancora evidentemente sicuramente in commercio e parlano di queste cose tutti insomma sia un esorcista racconta sia uno vi racconti di un esorcista sia esorcisti psichiatri insomma tutti quanti best-sell scritti da lui parlano di queste cose io anche mi ricordo la prima volta che lessi io pensavo che il malocchio e i malefici erano favolette insomma leggende cose cioè dico anche insomma che per la mia mentalità insomma di persona comunque del ventesimo secolo che aveva studiato e tante cose insomma andare a pensare al malocchio e al maleficio faceva un pochino di difficoltà però padre Amonte come me era anche lui laureato in giudisprudenza prima di essere insomma poi poi preto quindi non era proprio stupido quindi per scrivere certe cose e per affermare certe cose dall'alto insomma della sua esperienza vuol dire che aveva buoni motivi insomma per poter scrivere quello che ha scritto no in Escia 30 dice buonasera Leonardo volevo chiederle il perdono nella confessione si intende che il peccato è cancellato cioè come se non si fosse mai commesso approfitto per ringraziare per tanti insegnamenti un peccato è è annientato dal sangue di Cristo ma come se non si fosse commesso c'è perché il peccato c'è ma viene cancellato dal sangue di Cristo quindi i peccati vengono distrutti dal sangue di di Cristo insomma ecco perché un'azione ecco come dire una volta che c'è stata quella azione c'è c'è stata ecco però il sangue di Cristo ci mette sopra il suo sigillo la lava e ne distrugge evidentemente tutta quanta la portata malefica e negativa Romanelli come alimentare la preghiera per allontanarsi dalle cattive abitudini ovvero come prendere l'abitudine di pregare ah come prendere l'abitudine di pregare si parla pregare pregando si comincia a farlo e si comincia con il poco e si prosegue con il molto la base primaria della preghiera l'ho detto in una dell'omeria di domenica scorsa insomma che la liturgia era tutta sola sulla preghiera c'era la vedova importuna come tutti credo che sappiate perché tutti siete bravi è andata a messa la domenica la base è quella che c'è nel segno dal catechismo si prega tutte le mattine tutte le sere facendo le preghiere tutte e bene quando ci si alza prima di andare a dormire dopodiché se uno vuole percorrere il cammino della preghiera ovviamente oltre a questa si ringrazia il signore che ci concede di mangiare quando ci mettiamo a tavola dopodiché è raccomandabile avere un tempo personale dedicato alla preghiera qui poi si applica e si apre tutto il discorso su un cammino possibile da fare quindi si impara poi a pregare il rosario quindi si dilata la preghiera vocale imparando a pregare il santo rosario a pregare con la chiesa attraverso la liturgia delle ore il libro dei salmi se uno vuole rimanere sempre nella preghiera vocale se uno vuole crescere un po' nella preghiera comincia a imparare a fare prima la meditazione poi c'è la dorazione eucaristica e tante altre cose insomma quindi piano piano ecco se uno vuole facendo un cammino certamente se una persona vuole fare un buon cammino di preghiera è uno dei casi essendo questo un mezzo insomma è una cosa da curare con una certa attenzione per cui può essere utile se lo si trova trovare un sacerdote che ci aiuti in questo cammino quindi un confessore fisso un direttore spirituale un padre spirituale chiamiamolo come vogliamo insomma ma che possa che possa fare qualcosa va bene vi ringrazio dei grazi ovviamente non leggo i grazi perché non grazie li rivolgiamo tutti quanti al Signore non ai suoi poveri strumenti Janto Ernesto dice buonasera Don Leonardo i nostri cari defunti possono mettersi in contatto tramite i sogni grazie la Sacra Scrittura attesta queste cose quindi non è assolutamente da escludere e questa sia una cosa possibile anche se chiaramente questo è un come dire è un versante è un argomento molto molto delicato insomma no perché sappiamo che i sogni possono essere i sogni da noi possono essere proiezioni in parte che il mondo del sogno è un mondo misterioso io non sono assolutamente esperto non so se gli esperti in scienze umane le psicanalisi varie insomma abbiano fatto progressi o cose di questo genere per cui non vorrei dire sfrondoni insomma da uomo della strada diciamo così da ignorante ecco io dico che i sogni generalmente sono frutto della nostra fantasia o del nostro inconscio di un sacco di cose insomma che le nostre protezioni certamente certamente alcuni sogni per la modalità particolare con cui arrivano si può capire che possano avere un'origine soprannaturale ecco però è un discernimento non semplice non è che se mi sogni un defunto automaticamente di questo mi ha venuto il sogno per dirmi chissà cosa no quindi bisogna fare un eventuale insomma di discernimento Sara Cardone chiede ci abbiamo ancora un po' di tempo poco come si può stabilire il limite tra la preghiera di richiesta e l'abbandono fiducioso alla volontà del padre che progressiamo nel padre nostro allora non sono cose che sono in opposizione perché nel padre nostro che è una preghiera di richiesta il padre nostro culmina con sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra quindi la richiesta della vedova importuna era fammi giustizia contro il mio avversario cioè liberaci dal mare che tra l'altro io ho già intanto insomma fatto notare liberaci dal male voi sapete che adesso il col nuovo messale entrerà in vigore adesso è successo un sacco di polemiche come dire dovrebbe cambiare la penultima pedizione del padre nostro non abbandonarci alla tentazione anziché non indurci in tentazione io ripeto anche qui ho confessato sarò un eretico un miscredente un pagano peccatore ma io tutta quanta questa cosa che scandalizza sinceramente non ce la riesco tanto a vedere d'accordo se non quando uno cambia una preghiera così come dire inveterata per tanto tempo un po' di difficoltà sicuramente nell'acquisire ecco però scherzando ho detto bisognerebbe cambiare anche l'ultima parte perché non è liberaci dal male ma liberaci dal maligno è in greco quindi e quindi la vedo di opportuna fa questa preghiera che è perfettamente conforme alla volontà di Dio quindi non c'è opposizione purtroppo anche qui c'era qualche altra domandina ma il tempo è finito alla prossima settimana ha